Signori è Natale e io ho un maglione bruttissimo, ma detto questo serviva questa piccola intro per innanzitutto annunciare le feste e per partire col nostro formatino notizie lampo riguardo al mondo videoludico e non solo, quindi non fermiamoci e andiamo subito dritti. Prima notizia presa da Tiscali Gamesurf, dopo Martin anche Sanderson entra nel mondo dei videogiochi, dopo l'arrivo appunto di Martin, Arar Martin con Elder Ring e il grande successo che ha avuto, non solo lui ma anche uno dei, forse colui che ha dato le tre, ai livelli di Asimov per il quanto riguarda il mondo fantasy, quindi Anderson che ha dato le tre leggi del fantasy che poi magari vi lascio descritte in descrizione col link, anche lui dice che è al lavoro, di essere al lavoro su una nuova IP che però non tratta del suo cosmoverso, non tratta delle sue cronache di folgluce eccetera eccetera, quindi sarà molto interessante vedere l'annuncio nel 2022, anche perché dopo questo periodo di remaster ed questo periodo di ributtare nel rimescolare anche dal punto di vista cinematografico il fatto e il rivisto tante volte, buttare dentro qualcosa di nuovo che arrivi anche dal mondo letterario a cui è vastissimo, sarebbe molto interessante per quanto riguarda il videogioco e il mercato del videogioco che sta ancora, si sta ancora espandendo. L'ottisa numero 2 è da Eurogamer, Star Citizen, l'Alpha 3.16 con ritorno della modalità Jumptown, arriva la modalità Jumptown 2.0 che era le battaglie PvP, quelle su larghissima scala che tante erano piaciute alla community che sta e stava provando il titolo. La patch porterà anche nuovi contenuti PvE, comprese le navi abbandonate che i giocatori possono esplorare per ottenere preziose ricompense. Inoltre questi luoghi sono pericolosi per i giocatori coraggiosi che sono in grado di manovrare un sacco di trappole esplosive per assicurarsi un bottino prezioso. Inoltre hanno aggiunto le navi del Dark Atlas Steel che ha sostituito la capacità di carico della Drake Atlas con 18 posti a sedere che consentono di trasportare le truppe da una battaglia all'altra. Se voi siete gli amanti di Star Citizen e vi piace il titolo e vi state aspettando con grande ansia questa nuova IP, benissimo, si stava muovendo qualcosa. Ora ovviamente l'audio è partito, io non volevo farlo partire, ma questo è il bello della diretta signori. Eccole le trappole che venivano citate nel PvE. Vedo questo, andiamo avanti, Sea of Thieves, qua avrete mille pubblicità ovviamente. Sea of Thieves da Game Village fa 5 milioni di vendite su Steam signori, Sea of Thieves. Il gioco lanciato nel 2018 che tutti avevamo all'inizio un po' disfrattato, non tanto per la qualità del titolo Rare, che comunque era veramente ben fatto, era veramente divertente, tanto per il fatto che non c'è un tubo da fare, in questi anni è maturato tantissimo e dopo Xbox, PC Game Pass e la Prodo su Steam sta avendo più di 25 milioni di giocatori insieme. È un titolo che secondo me, da un punto di vista concettuale, è meraviglioso, è il videogioco puro su molti aspetti ed è divertentissimo se hai giocato con gli amici però. Trovate e troverete dal 22 al 29 dicembre le moto All Together Now che verranno regalate per celebrare appunto questo grande risultato da parte di Rare. Andiamo avanti, Smash Bros. tornerà? Il director Mashahiro Sakurai conferma che al momento non ci sono piani per un nuovo gioco, un nuovo Super Smash Bros. potrebbe farsi attendere un po'. Ci sta? Comunque con tutto l'hype e con tutto il sistema di release e di DLC e di nuovi personaggi che è stato implementato da Smash Bros. Secondo me ha segnato un nuovo livello di asticella per quanto riguarda community, hype e risultato. Specialmente con rendering, come mettere un trailer di nuovi personaggi e come fare impazzire assolutamente l'audience. Non riesco a pensare alle prospettive future in questo momento? Dice Sakurai, se Nintendo decide di volerne fare altri e mi offrirà il lavoro allora ci comincerò a pensare. Ho detto Sakurai, quando dici tornare alla serie sembra che ci sarà un altro titolo di Super Smash Bros. Ma al momento non ci sono piani del genere, sarebbe meglio non presumere che ci sarà sempre un altro titolo di Smash Bros. Chiaramente Sakurai in questo momento ha una quantità di pressione addosso che le batti proprio... Comunque lui continuerà a lavorare la serie, continuerà sicuramente a sfornare qualcosina per il nostro piccolo Kirby. Smash Bros. è veramente una pietra miliare del picchiaduro, specialmente è uno dei pilastri per quanto riguarda Nintendo. Sicuramente si evolverà o troverà altre vie in un futuro, vedremo. Aspettiamo uno o due anni, forse addirittura per un'ipotetica nuova console Nintendo. Avremo buone possibilità di vedere un'evoluzione di questo titolo meraviglioso. Bravely Default 2 fa un milione, anche qua parliamo di numeri, Square Enix festeggia con uno sconto ma solo su PC. Avrete uno sconto nel 30% fino al 17 gennaio per festeggiare il terzo titolo della saga, perché Bravely Default è il terzo capitolo dell'anonima saga, che scorso febbraio su Nintendo Switch e a settembre su Steam sono uscite. Titolo che vi consiglio assolutamente di andare a recuperare se non l'avete mai giocato, se vi piacciono i JRPG, o soprattutto i JRPG con lo stampo classico, casa Square Enix, avete ora un buono sconto per le feste natalizie. Horizon Forbidden West includerà più di 100 abilità e 6 stili di gioco per Aloy, tra cui Cacciatrice e Hacker. 6 alberi delle abilità differenti e circa il quadruplo delle abilità di Horizon Zero Dawn. Ragazzi, il quadruplo. Ora, non è che fossero tantissime quelle di Horizon Zero Dawn, ma comunque erano sufficienti e bastavano a rendere l'esperienza di gioco soddisfacente, la caccia divertente. In questo caso, signori, abbiamo il quadruplo delle abilità, tra cui appunto Cacciatore e Hacker. Quanto riporta Game Informer, Horizon includerà ben 6 stili di gioco differenti, e dato quello che abbiamo visto sarà veramente un parco giochi meraviglioso col mondo, il doppio di Horizon, ognuno di questi potrà contare su 20-30 abilità uniche contro le 36 complessive del capitolo precedente. Le abilità variano da attiva a passive e possono permettere ad Aloy di imparare nuove mosse e di ricevere bonus percentuali su attacco, difesa o vitalità. Ogni albero delle abilità, inoltre, includerà delle straordinarie mosse speciali definite al Barrel Surge, attivabili in battaglia prevo riempimento di una barra apposita. Quindi avremo tipo la Burst. Abbiamo Guerriera, Cacciatrice, Infiltrata, Hacker, Sopravvissuta e Trapper. Guerriera, mosse specializzate in combattimento corpo a corpo, Cacciatrice per l'arco e nuove mosse a distanza, Infiltrata, specializzata nelle meccaniche stealth, mentre Hacker, nell'hacking delle macchine, Survivor, sul raccoglimento di risorse, cura e crafting, Trapper, specializzata sull'utilizzo delle trappole. Questa è una roba, io ho veramente una quantità di hype per sto titolo, signori, incredibile. Un po' per l'ambiente di gioco, un po' per quello che abbiamo visto, un po' per veramente la grafica e, ripeto, l'ambient che ha creato, così con questi ambienti totalmente differenti l'uno dall'altro, che però rendono veramente in una maniera spaventosa sulla nuova gen. Quindi non vedo l'ora di poter fare la mia, penso, per come sono fatto io, la mia Cacciatrice. Andiamo avanti, la serie di The Witcher, la seconda stagione è prima su Netflix, con 142 milioni di ore visualizzate. Successo incredibile per The Witcher. Recentemente siamo stati estremamente fortunati, perché tra Zero Calcare, tra Arkane e ora The Witcher, abbiamo comunque su Netflix, Netflix è stata estremamente fortunata, soprattutto ha portato in sacoccia tre serie non indifferenti. Prima Squid Game e ora adesso. Sono dell'idea, questa è un'idea personalissima, quindi potete essere d'accordo o meno, ovviamente, magari scrivetelo nei commenti, che rispetto alla prima serie sia un pochettino sottotono, poiché la prima serie mi era piaciuta di più per la questione appunto ranuncolo, forse effetto wow, la questione appunto del combattere determinati mostri, la vita delle Witcher, il gin e il lago. Ecco, la seconda è un po' forse più di preparazione sotto alcuni aspetti, l'ho apprezzata un po' meno, ma sta comunque, mi sa comunque, è comunque qualitativamente molto alta. Nuova stagione, ha fatto nel top 10, ha fatto 142 milioni di visualizzazioni, a secondo posto la precedente era di 49 milioni di visualizzazioni sulla serie precedente, quindi comunque c'è stata una riconferma, chiaramente, grazie al successo della prima serie. Aperti i preordini di Chocobo... Mamma mia, questa notizia la devo proprio leggere. Aperti i preordini su Amazon di Chocobo GP, in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco è prenotabile a 49,99 euro. L'uscita del 10 marzo, io amo Chocobo Racing, sia chiaro. Lo avevo per PlayStation 1 quando uscì, bello, bravi tutti. Mi sembra che questa volta, come dissi all'epoca, si è fatta un po' fuori dal vaso, secondo me, perché è un titolo che, pur rimesso in sesto, pur rimesso in forma, sulla console di Super Mario Kart, mi sembra veramente un pochettino riempitivo e un effetto nostalgia per alcuni. Personalmente, fosse costata 19,99 e l'avrei presa. 49,99, dubito fortemente che ci metterò le mani. Assassin's Creed Valhalla Forgotten Meets è il fumetto prequel in arrivo, poco dopo l'espansione L'Alba del Ragnarok. Forgotten sarà distribuito da Dark Horse. Oggi tutte le news di Matteo Zibbo le abbiamo su Eurogamer. Riceverà una nuova espansione 10 marzo, Dawn of Ragnarok, lo sappiamo bene, e ci sarà, però, appunto, è stato rivelato che l'espansione riceverà un fumetto prequel di Assassin's Creed Valhalla Forgotten Meets solo una settimana dopo. È stato rivelato IGN come parte di un accordo esclusivo con Ubisoft. Il sito web spiega che Forgotten Meets seguirà la storia del libro di Assassin's Creed Valhalla Song of Glory. Quanto pare sarà tanto diverso dalla storia del gioco base in Assassin's Creed. Il primo numero della serie, edito da Dark Horse, uscirà il 16 marzo, meno di una settimana dopo l'espansione. Saranno super felici i fan di Assassin's Creed, specialmente Assassin's Creed Valhalla, perché avranno l'opportunità di leggere questa storia prequel di Dark Souls Comics che uscirà, per l'appunto, il 16 di marzo. Ultime due notizie, una un po' più simpatica, una un pochettino più complessa. Questa è incredibile. Metal Gear Solid scoperto un nuovo trucco che permette di controllare le guardie. Metal Gear Solid 1, Hideo Kojima, penso che sia stato uno dei giochi che più mi ha fatto smascellare quando da ragazzino scoprì che per battere Psycho Mantis dovevo mettere il controller 2. Il controller nella porta 2 in modo tale da non farmi leggere i movimenti. Benissimo, di nuovo col controller 2 c'è un altro trucchetto che ci permette, come potete vedere qua nel video al quale ho orato algo l'audio, di muovere liberamente le guardie nella parte finale del gioco. Infatti vedete che lui fa vedere che sta muovendo lui stesso le guardie che arrivano da fuori. Non ci sono limiti ormai ai segreti, ai trucchi, ai bug che si possono tirare fuori da alcuni titoli. Questo ha durato più di 20 anni e continua ad essere probabilmente uno dei capolavori, uno dei capisaldi del video ludici del mondo terraqueo. Ultima notizia riguarda le NFT. Mi metterò a parlare un po' più dell'NFT tra un po', perché quel video che feci all'epoca era rimasto un po' lì in sordina quando proprio uscirono, che lo dissi addirittura prima di Montemagno, è il momento di parlarne un po' di più perché sta diventando un pochettino più impellente la questione, specialmente dopo che quello ha investito 10.000 dollari all'interno in un'officina e una banca nel mondo NFT virtual metaverse e ora ne guadagna 100.000 perché la gente compra da lui, è una roba assurda, poi ve ne parlerò. Comunque, Ubisoft Quartz ed il flop NFT non fanno cambiare idea alla società. È un grande cambiamento per i fan, Ubisoft va dritta per la sua strada. Che cosa è successo? Praticamente Ubisoft prevede di continuare a investire negli NFT, not freeable token, nonostante il contraccolpo estremamente negativo al sistema Ubisoft Quartz che è stato recentemente annunciato. In una recente intervista l'editore ha discusso il contraccolpo dei fan alla relazione di Quartz definendolo in un gran cambiamento per i fan, per non dire altro. Abbiamo ricevuto molti feedback dell'annuncio, ci ascoltiamo sia l'incoraggiamento che le preoccupazioni. Praticamente, secondo un recente rapporto, anche alcuni sviluppatori sono stati estremamente scontenti della decisione dell'azienda di aggiungere token non fungibili ai suoi giochi. Ed era stato fatto l'esempio in Ubisoft Quartz Beta, l'inserimento appunto di NFT all'interno dei suoi giochi, anche su giochi AAA come Tom Kainsey, Ghost Recon, Breakpoint, con 7 giocatori di acquisire digits, ovvero oggetti come veicoli, armi e pezzi di equipaggiamento collizionabili nel gioco in forma NFT. Su questo poi ne torniamo, torneremo e ne riparleremo, ne riparleremo più avanti. Signori, questo era un esperimento, so che ci sono altri format simili, il mio non era assolutamente un voluto a copiare o a fare, semplicemente vi parlo di quello che mi impressiona, mettendoci del mio, spero vi sia piaciuto, doveva essere lampo, siamo a 11 minuti, insomma non so a che cadenza avrà questo tipo di formatino, ditemi qua sotto cosa ne pensate, se vi piace, se lo rifacciamo, se non lo rifacciamo, mi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciarmi un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social, sono live tutte le sere alle 21 su Twitch, tranne il sabato, ora vedremo nelle feste capodanno, di sicuro lo facciamo live assieme, mi invito a iscrivervi anche su Instagram, dove vi dico tutti i cambiamenti della programmazione, e su TikTok, devo rifare dei TikTok, sono fermo, cacchio, aiutatemi. Vi auguro una buona serata, United State of Zerga, ciao belli.